ciao 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 raga ciao anche questa volta mi prendete come valettona ecco con la mia valettona è arrivata la degusta puoi aprire eccolo qua cosa ci sarà di bello in questo mese di aprile aprile per la tua gioia tutta roba di benessere no ancora benessere con gusto già la dez vabbè però l'altra volta era normale invece questo qui deve essere latte di mandorla quindi forse è più buono vediamo vedare sì mandorla va bene dai qui ci sono i foglietti illustrativi ok medicina senza lattosio da interessante riso scotti riso scotti e credo che ci sia qualcosa col sugo però forse sì petti dal 1925 e noi ce l'avamo c'era anche tu nel 25 c'era anch'io ma dai sì 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 sono arrivata con la rivoluzione francese ok bellissimo poi c'è anche questo cosino qua delizioso senza zuccheri della dezza ok un buono sconto va bene esatto vado vai da quale parte esatto della smaz si sono tipo delle patatine tipo tipo che sono patatine esatto un euro e 39 ad unità allora c'è scritto che ce ne sono due ma questa è l'altra ok ok questo è con qui no o chi no non so come si dice e questo con limone e timo vabbè queste sono da assaggiare mettile da parte che oggi ce le mangiamo va bene charlie buono qui e buono lì dal mille non ci vedo 946 se c'eravamo lì zenzero e curcuma sei contenta sono contentissima questo è il gusto preferito sì sì antiossidante vedi che così non invecchi ok 3 euro e 49 perfetto poi qua ci sarà una bottiglia speriamo sia alcol ah no è benessere e no non può oddio cos'è condimento aceto di mele zenzero e laio anche qui lo zenzero no ma guarda io te lo lascio ma me lo devi far assaggiare eh guarda oggi è giusto l'insalata dai perfetto quanto costa aspetta 3 euro e 99 un solo prodotto nella box e ovviamente quando c'è ma non saprei non si sa non si sa però noi la c'è altra bottiglia altra bottiglia potrebbe essere onest organic tea raspberry and basil e così a basilico lampone basilico dunque vediamo un po 1 euro e 49 una sola confezione foglie di tè accuratamente selezionate unite al gusto della frutta e a un tocco di zucchero di canna va bene l'assaggeremo sì sì sicuramente forse secondo me sarebbe bello fresco giusto del frigo no lo metto in frigo dopo sì sì poi i biscotti di riso quelli della riso scotti che abbiamo detto prima sono i biscotti della concorrenza è vero è vero ci assomigliano tantissimo riso scotti senza lattosio senza olio di palma senza proteine del latte senza biscotti esatto cosa mangiamo non lo so ti piatta che non li trovo 2 euro e 99 questi però da cucciare nel tè non sarebbero non saranno questi devono essere buoni ecco questo è il prodotto del mese adesso vedi però è meravigliosa mandorla a gusto forse mi piace forse non è detto io non amo molto quanto costa 2 euro e 69 queste sono le tue scoperte della macchinetta esatto hai visto quando compro qualcosa io pam dopo diventa famosissima perché tu sei famosissimo sei l'articolo dov'è dov'è fruttetta della fruttella vabbè un euro e 30 un solo prodotto nella box e questo qual è questa è frutti rossi sì ok good for you mix di frutta secca disidratata c'è l'uva perché c'è l'uva rossa e i ribes perfetto beh questi ce li mangiamo insieme dai questa mi sa che è la salsa questa è la salsa che era della petti sì 1 euro e 69 1 euro e 69 dal 1925 l'avevamo già detto esatto ragazzi non mi sono ancora svegliata comunque deve essere buono 100% pomodoro toscano biologico e costo 1 euro e 69 questa deve essere buona dai questa sì poi i legumotti allora l'ultima le ultime due cose della barilla allora i legumotti costano 2 euro e 89 insieme alle altre che vediamo sì questa cosa non l'ho mai smangione questi sì li ho assaggiati perché erano sono buoni? in una degusta box sono strani queste te li do te ovviamente dov'è il dito? ah qua queste te le do te farina di legumi lavorata in chicchi vabbè questa no non mi no invece queste sì le penne di venticchie rosse ma questa è la stessa roba però non lo so perché questa è forma di penne brava mi hanno dato una forma sfigata brava farina di venticchie rosse ho detto costano 2 euro e 89 e il gusto fa la differenza vabbè è ricco di fibre si sa basta no c'è ancora una roba buona come? davvero la colazione di stati no la girella motta e frutti rossi meno 50% di grassi rispetto alla media delle merendine più allora qua devo dire che io sono molto scettica perché da bambina per me la girella era la girella sì infatti 2 euro e 19 un mix perfetto dov'è? ah un mix perfetto tra aspetta eh cacao fragole e lamponi con il 50% di grassi in meno non lo so noi l'assaggeremo e se moriamo sapete perché esatto quindi basta sempre ottimistone ottimistone dai allora salutiamo vi ringraziamo di averci seguito io scappo con la falsa ok ciao ciao raga ciao ciao raga ciao